iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o dio vieni a salvarmi signore vieni presto in mio aiuto gloria al padre e il figlio e lo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen credo in un solo dio padre omnipotente creatore del cielo della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo signore gesù cristo unigenito figlio di dio nato dal padre prima di tutti i secoli dio da dio luce da luce dio vero da dio generato non creato dalla stessa sostanza del padre per mezzo di lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello spirito santo si è incarnato nel seno della vergine maria e si è fatto uomo fu crocifisso per noi sotto ponzio pilato morì e fu sepolto il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine credo nello spirito santo che il signore è dalla vita e procede dal padre e dal figlio con il padre il figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la chiesa una santa cattolica e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà amen invocazione allo spirito santo vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna san michele assistimi nell'ora della morte incatena lo spirito maligno affinché non possa attaccarmi né nuocere alla mia anima padre nostro che se ne cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli amen san gabriele ottienimi una fede viva una speranza ferma un amore fervente e una grande devozione verso i santissimi sacramenti padre nostro che se ne cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli san raffaele guidami sempre sul cammino della virtù e della perfezione padre nostro che se ne cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli preghiera ai santi arcangeli settimo giorno giudicando padre tu che ci guardi dal cielo lontano sei seduto sul tuo trono ti prego di concedere i miei meriti a san michele arcangelo di concedermi giustizia e non giudicarmi se ho offeso i miei fratelli perché conosco i miei fallimenti e con il tuo aiuto sarò in grado di correggermi e di non peccare più amen preghiamo signore dio provvidenza infinita proteggici per mezzo degli arcangeli michele gabriele e raffaele e di tutte le virtù celesti e fa che venerando la loro gloria all'ode del tuo santo nome impariamo a servirti fedelmente per partecipare ogni giorno alla gioia dei beati per cristo nostro signore amen grazie a tutti grazie a tutti